Hanno faticato in difesa, hanno sofferto a centrocampo, non hanno minimamente saputo rispondere alla qualità della squadra avversaria. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali. Non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. È finito il tempo a nostra disposizione. Al commento tecnico c'era Luca Marcheggiani, che ringrazio. È stato un grande piacere.